Le cause del sottosviluppo non sono state ancora eliminate, lo ha detto Papa Francesco, incontrando i volontari dell'OPAM, l'opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo. Ascoltiamo il servizio di Alba Di Palo. Nonostante le tante e generose opere di solidarietà realizzate a livello civile ed ecclesiale, le cause del sottosviluppo non sono state eliminate. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in udienza i volontari dell'opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo, in occasione dei 50 anni della fondazione. Gli operatori dell'organizzazione sono stati spinti dal Santo Padre a proseguire le migliaia di progetti e adozioni a distanza in più di 80 paesi. Il vostro lavoro punta proprio a togliere una delle cause del sottosviluppo, ovvero l'analfabetismo, ha sottolineato Bergoglio, ricordando che il sogno della Chiesa, o meglio il sogno di Dio, è un mondo in cui tutti possiamo vivere come fratelli e sorelle in piena dignità. Quando voi, in collaborazione con tanti missionari e missionarie che lavorano sul campo, studiate e realizzate un progetto educativo, di sostegno scolastico, delle adozioni a distanza, contribuite a generare un mondo aperto, ha proseguito il Pontefice, dove tutti siano accompagnati nel percorso della loro vita, non solo nel provvedere ai bisogni primari, ma perché possano dare il meglio di sé. Da qui l'invito ai volontari ad andare avanti, cercando di tenere alta la qualità della vostra azione, perché sia sempre promozionale. Francesco ha ribadito la richiesta di alimentare continuamente questo aiuto con la linfa del Vangelo, perché lo Spirito Santo tenga viva l'ispirazione, le motivazioni e lo stile del vostro impegno. Grazie.